Tra le rimonte subite quella contro l'Entella forse è meno amara, un po' perché alla vigilia quasi tutti avrebbero firmato per il pari, vuoi per la forza della squadra che più di tutto è candidata alla vittoria finale, senza dimenticare l'emergenza a centrali difensivi con la contemporanea assenza di Pinto e Pelagatti, così Burzigotti che non giocavano a gara ufficiale da maggio ha accelerato i tempi del rientro facendo coppia con Borghini. Cutolo viene proposto dal primo minuto, la gara sembra viaggiare sull'equilibrio con l'Arezzo che si fa maggiormente apprezzare sul piano del gioco e con due fiammate va sul 2-0. Prima Brunori trova l'angolino e poi su splendida combinazione Serrotti-Foglia, quest'ultimo inventa un pallonetto delizioso per il raddoppio. L'Entella si presenta nella ripresa più determinata e dopo 5 minuti accorcia di testa con Eramo, sarà lo stesso Eramo a 3 minuti dalla fine a trovare in diagonale il pari. Nell'ultima mischia finale stava per scapparci la beffa con Diav che ha mandato fuori di poco. In classifica l'Arezzo scende al quarto posto scavalcata dalla Provercelli vittoriosa nel recupero a Maranto al quinto pareggio interno. In generale abbiamo fatto una buona partita, pur vero che secondo me Lentella alla lunga ha preso piede, quindi ci sta che la partita si sia riequilibrata nella seconda frazione. in vantaggio di due gol, potevamo gestirla un po' più da furbi, più nei minuti finali. È chiaro che il gol preso dopo 5 minuti di secondo tempo complica un po' le robe, perché comunque è una forza d'urto grossa loro e ci può stare che dopo il gol lo trovino. Prenderlo più tardi, se proprio lo dobbiamo prendere, sarebbe meglio, questo non si può scegliere, quindi prendiamo il punto per buono, prendiamo la prestazione per buona. Siccome è il terzo, mi sembra che subiamo in queste fasi qui tutti i controsquadri di questo blasone qua, vuol dire che magari un difetto di fabbrica ce l'abbiamo, più nella gestione che nell'aspetto tecnico, questo non c'entra niente con l'aspetto tecnico. dobbiamo imparare a farci forse un po' più furbi nel gestire i minuti finali. È il primo tempo, non so se dello stesso avviso, più bello di questo campionato, veramente spettacolare contro una formazione tenuta presente che giocavamo contro un'Entella che è veramente una grande squadra. Sì, il metodo di misura te lo dà sempre al valore dell'avversario, quindi è normale che farlo contro di loro aumenta i meriti dei miei giocatori che sono sempre stati enormi dal mio punto di vista. Se vogliamo tentare di fare un campionato che non è anonimo, dobbiamo spingere l'acceleratore su altri tipi di questioni che non sono oggi quelle tecniche il nostro problema. ma tentiamo di lavorare un po' sui nostri caratteri per tentare di migliorare qualcosa. Il secondo tempo, all'ultimo, veramente eravamo un po' sulle gambe. È stata un po' la difesa, l'uscita di Buzigotti, eravamo proprio in emergenza totale. Lo sapevamo prima che avremmo avuto qualche difficoltà nei cambi. Oggi avevo 10 under in panchina, di cui 8 erano 98. Ci può stare, insomma, siamo stati costruiti così, quindi non è una sorpresa. Andiamo avanti sereni, mi dispiace più che altro per i giocatori che non abbiano portato a casa un risultato che sarebbe stato gratificante per loro. Anche se alla fine, ripeto, per quello che si è visto durante la gara, il pareggio ci può stare. Ci dispiace che sia venuto in questo modo qua. È una che monta diversa dalle altre che avevano più amareggiato. Sì, perché alla fine loro, pur non impegnando per Agotti, perché parate non me ne ricordo, però hanno marcato un pochettino la partita nel secondo tempo, come l'abbiamo marcata noi nel primo. Contro questi avversari qua, se me l'avessero detto prima, sarei stato contento. Oggi, dopo l'epilogo che ha preso, magari mastico un po' amaro, ma va bene. Un giudizio su Burzigotti e anche la scelta di tassi per il basso, come è nata? Secondo me l'Ore fa meno fatica in quel ruolo lì, tassi, perché è un po' più coperto, perché secondo me da mezz'ala serve un altro tipo di caratteristica per dinamicità e per contrasto. Lo fa senza grossi problemi. Per Burzigotti sono contento, dopo sette mesi di inattività, difficile fare una partita di questo valore qua. Per un ragazzo che si è sempre andato bene, è chiaro che dopo l'uscita sua ho messo Luciani in mezzo, non avendo difensori centrali, non avevamo tante altre soluzioni, quindi va bene così.